Si ricordano perché obiettivamente è una di quelle impigliari che divide, ci sono grandi conferme, per esempio l'Uruguay, l'Uruguay rivince nel calcio e come detto in precedenti trasmissioni le due curve dello stadio di Montevideo, una si chiama Colombes, già pronunciato come piacciono a loro, e l'altra Amsterdam perché hanno vinto le due Olimpiadi che loro considerano dei mondiali, effettivamente la squadra che poi vincerà il mondiale, quello reale del 30 in Uruguay, è sostanzialmente la stessa che vince le Olimpiadi, contro l'Argentina che poi sarà la rivale anche nel 1930 ma con partita ripetuta 1 a 1 e poi 2 a 1 nella ripetizione. L'Italia nella semifinale batte l'Egitto 11 a 3 e comincia a diventare una grande potenza anch'essa.